Che lavoro fare se sei minorenne e se hai tra i 15, i 16 e i 17 anni? Sono Ciro Muto, mi occupo di finanza, management e crescita personale. Se questi argomenti ti interessano, lascia un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video. Bene, oggi ho deciso di fare questo video dedicato a chi ancora non ha compiuto 18 anni. Mi sono preposto di girarlo perché ho controllato le statistiche del mio canale e a quanto pare tra i miei spettatori una gran parte di questi sono ragazzi che ancora non hanno compiuto 18 anni. Quindi, vando alle chiacchiere, andiamo dritti al sodo. Ho girato qualche giorno fa un video molto interessante che spiegava quali erano i lavori che si possono fare da casa. Se ancora non hai compiuto 18 anni, forse il video che ho girato potrebbe essere interessante. Credo di aver lasciato diversi spunti per approfondire il tema del lavoro perché spesso quando si è ragazzi sicuramente le idee non sono tanto chiare. Per questo motivo, in questo video voglio darti tre consigli per scegliere il tuo lavoro del futuro. Consiglio numero uno. Cerca di ascoltare le tue passioni e il tuo cuore perché quasi sicuramente se sarai in grado di ascoltare le tue passioni e di dar retta al tuo istinto, troverai quello che fa per te. Spesso, quando si è giovani, le cose da fare sembrano infinite e la nostra attenzione non punta il focus verso una sola cosa. Ed è per questo che il mio secondo consiglio è quello di focalizzarti su una sola cosa alla volta. A tal proposito, se ti piace leggere e dovrebbe piacerti leggere, voglio consigliarti un titolo davvero interessante che ti lascio qua sotto in descrizione. Il libro in questione si chiama proprio Una sola cosa ed è molto utile per aiutarti a focalizzarti su una sola cosa alla volta. Consiglio numero tre. Approfondisci le tue competenze sempre. Viviamo ormai in un mondo molto veloce che necessita di un continuo aggiornamento. I tuttologi, ovvero quelli che credono di sapere tutto, lasciano spazio a chi continua ad aggiornarsi. Qualsiasi attività tu voglia intraprendere domani mattina dovrai essere sempre in aggiornamento. E ripeto, sempre. Considera che qualsiasi materia tu voglia approfondire e qualsiasi argomento a ti possa interessare, troverai sempre in una libreria tantissimi libri dedicati all'argomento. Una buona media dovrebbe essere quella di leggere almeno 30 libri l'anno. Equivalgono circa a due libri e mezzo al mese. Ma se magari ti sembrano troppi, puoi cominciare anche solo con un libro. L'importante è fare il primo passo. Bene, oltre questi tre consigli, voglio lasciarti un ultimo approfondimento molto interessante. Sul mio sito internet trovi tantissimi articoli a titolo gratuito che ti spiegano proprio quali lavori puoi fare anche se sei minorenne. Sotto, nella descrizione di questo video, ti lascio il link per finire sul mio sito e per controllare tutti gli articoli che ti interessano. Ultimo, ma non per importanza, è il consiglio dedicato a chi vuole cominciare sin da subito. Google offre un mare di informazioni, quasi sempre gratuite, che ti offrono la possibilità di iniziare a ricercare quello che a te interessa. Quindi, trova un argomento, trova un tema, trova qualcosa che a te ti appassiona davvero e inizia sin da subito a costruire la tua attività, nonostante la tua tenera età. Passare dai 16 ai 18 anni è un salto che quasi non ti accorgi di fare, quindi comincia sin da subito. Ovviamente, l'istruzione è fondamentale, quindi non lasciare i tuoi studi e continua sin dove il tuo cuore ti dice da arrivare. Bene, questo era tutto quello che mi sentivo di raccontarti all'interno di questo video, dedicato a chi ancora non ha compiuto 18 anni e vuole cercare un lavoro da fare. Prima di salutarti, voglio soltanto rinnovarti l'invito che ti ho fatto all'inizio. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Sono Ciro Muto, questo era il mio video dedicato alla finanza e a tutti gli argomenti dedicati al tema del denaro. Se ti va di approfondire ulteriormente chi sono, ti basta andare sul mio sito web www.ciromuto.com alla pagina chi sono. Questo è tutto, io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao! Ciao!